45 minuti di spettacolo con coreografia che hanno richiesto mesi di prove per avvicinarsi al sogno più grande dei ballerini sul palco, quello di avere uno spazio tutto per sé dove imparare l'autonomia e la socialità. Si tratta di Siamo in missione per conto di Dio, l'evento organizzato dall'associazione L'Isola che si terrà domani sera alle 20.30 al TEN di Nuoro. Nata nel 2017, L'Isola, per mezzo dei suoi educatori, si dedica all'inserimento sociale e all'insegnamento di competenze a persone disabili con un certo grado di autonomia, con il supporto di una rete di volontari, molti dei quali studenti delle scuole superiori del capoluogo. Lo spettacolo di domani, liberamente tratto da The Blues Brothers, il film cult del regista John Landis, non è solo il coronamento di un anno di lavoro, ma anche l'occasione per raccogliere fondi mediante offerta libera per le attività dell'associazione, a partire dall'opportunità di avere uno spazio per gli ospiti dell'associazione per convivere nel weekend sviluppando l'autonomia. È uno spettacolo assolutamente inclusivo, dove i nostri ragazzi diversamente abili sono impegnati con ragazzi invece delle scuole superiori e delle università. L'obiettivo è metterli tutti nel palco a divertirsi, a stare insieme, a favore della comunità. L'obiettivo è chiaramente sempre quello di raccogliere dei fondi che ci permettano di continuare a valorizzare i nostri progetti di autonomia, di sensibilizzazione all'inserimento lavorativo e, perché no, anche all'apertura della nostra casa famiglia per momenti di autonomia.